Si è tenuta lo scorso venerdì 27 settembre la Convention 2024 di Fidi Nord-Est. La riunione, centrata sul tema della resilienza e della condivisione dell'impegno, ha avuto come frase di ispirazione «Non chi comincia, ma quel che persevera» di Leonardo da Vinci. Ascoltiamo il commento del presidente Alessandro Vicino. Diciamo che Fidi Nord-Est ormai è una struttura che si pone sul mercato e è una storia veramente veramente lunga. Quello che noi pensiamo di fare per il futuro è quello di incrementare ancora il valore di Fidi Nord-Est, la presenza sul mercato e quello che sono i servizi che noi diamo ai nostri soci. Per questo facciamo conto su una squadra sempre più coesa e unita che stiamo anche cercando di incrementare in questo periodo. Quindi la giornata formativa di oggi si pone appunto come tema quello di rafforzare la coesione fra il nostro personale, creare team, creare squadra, in modo tale da poter rafforzare Fidi Nord-Est la sua presenza nel mercato che di giorno in giorno si fa sempre più difficoltosa. Abbiamo visto che ci sono delle fusioni in essere, per cui i nostri competitor saranno sempre più forti e sempre più aggressivi. Noi per mantenere le posizioni dobbiamo organizzarci, avere una squadra forte per cercare di mantenere la posizione di Fidi Nord-Est, che è una delle società più rappresentative a livello veneto e quindi anche a livello nazionale. Ecco, diciamo che la funzione fondamentale di Fidi Nord-Est e dei suoi collaboratori è quella di essere vicino ai soci nel territorio. In un momento in cui, dal Covid in poi, ma sinceramente anche da prima, le banche stanno lasciando il territorio, si stanno rifacendo quelle che sono le agenzie sul mercato e per dare una consulenza ai nostri soci, i commerciali Fidi Nord-Est saranno sempre pronti a fare ciò ed è una delle priorità che ci stiamo dando. Ospite dell'evento, il capitano di Vascello Gianfranco Bacchi, per spiegare ai presenti le analogie tra la vita in nave militare e in azienda, soffermandosi in particolare sul tema del team building. Sentiamo! Il mio esempio è quello di una persona a cui piace partecipare alla vita dei compagni di squadra. Per me il fulcro del gioco in team è la condivisione. La condivisione del tempo, la condivisione degli spazi, il capo che si chiude in un ufficio. Si preclude del valore aggiunto invece di avere a che fare con dei colleghi, dei collaboratori che conosce bene, che conosce anche al di fuori della sfera lavorativa. A volte capita di sentirsi dire che esiste anche la navigazione in solitario, che quindi non è di per sé un gioco di squadra. In realtà non è così, è ancora più un gioco di squadra di quanto lo sia invece la navigazione in una comunità, perché la navigazione in solitaria non può prescindere dall'esistenza di un team che segue la meteorologia, che segue le rotte, per cui il navigatore solitario è parte di un team, altrimenti è destinato a diventare un naufrago e non più un navigatore.